Oggi per chef in camicia, tortelli di stagione al grana padano. Come prima cosa prepariamo un ripieno, lavorando la zucca con gli aromi scritti in descrizione e cuocendo finché la polpa non risulterà bella tenera. Prepariamo la pasta lavorando le uova con gli spinaci sbollentati, frullando, filtrando all'interno delle farine, impastando, coprendo e lasciando riposare sotto pellicola. Con la nostra zucca cotta andiamo a lavorarla con sale, pepe, ricotta, il nostro favoloso grana padano. Mi raccomando non lesinate, è il protagonista del piatto e delle nocciole tostate precedentemente, lavorando con un'immersione ottenendo una crema liscia e priva di grumi. Stegniamo la nostra pasta fresca tagliandola, ricavando dei quadrati che andremo a chiudere come da video. Prepariamo la fonduta di grana padano passando alla frittura dei nostri capperi e cuocendoli finché non diventeranno dorati. Siamo alle fasi finali, burro e timo in padella, emulsioniamo con un goccio d'acqua, caliamo i nostri tortelli e una volta che verrà una galla scoliamoli andandoli a mantecare nel nostro fondo e servendo con la nostra fonduta i capperi fritti e le nocciole croccanti. Se dovessi descrivere questo piatto lo descriverei con un solo aggettivo, ruffiano, terribilmente ruffiano. Anzi, sono una bomba. Alla prossima ricetta.